Era stata determinante ad ottobre e lo è stato anche in questa circostanza. La divisione del centro-sinistra ha influito inequivocabilmente anche nelle consultazioni di ieri a Pescara per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Donato di Matteo e Licio di Biase hanno promosso una lista civica in antitesi con la lista di centro-sinistra, giudicandosi 16.391 voti ponderati contro i 25.512 di provincia in comune. Tra i due litiganti il terzo go del centro-destra con la lista Forze di Libertà che ha conquistato 42.221 voti. Alla luce di questo esito, sui seggi del Consiglio Provinciale siederanno sei rappresentanti del centro-destra, Alessio Orlando, Monica Ciuffi, Pierpaolo Pace, Davide Berardinucci, Giuseppina Tulli ed Emilio Camplese. Quattro rappresentanti del centro-sinistra, Stefano Casciano, Domenico Vespa, Lino Ruggero e Francesca Sborgia. Due rappresentanti della civica di Di Matteo e di Biase, Moriondo Santoro, Detto Dino e Nunzio di Donato. Era abbastanza prevedibile che sapevamo che più o meno potesse andare in questa direzione. Però quello che al di là dei numeri, che oggi in provincia non è che contano tanto i numeri a livello consigliare, perché è un discorso collegiale e quindi a me quello che interessa, ripeto, al di là dei numeri, la qualità dei consiglieri eletti per poter lavorare con sinergia e per poter lavorare per i nostri territori. Grazie a tutti.